Carissimi, buona serata a tutti e ben ritrovati alla sera di questo giorno, oggi in mercoledì, il 29 di novembre 2023, il penultimo giorno di questo mese, il mese di novembre. È bello essere qui. Anche oggi è stata una bellissima giornata. Abbiamo avuto un po' di sole. Oltre il sole, abbiamo avuto in occasione la parola di Dio. Abbiamo ricevuto in dono questa parola. Allora, prima che finisce questa giornata, però, riascortiamolo. Riprendiamo il Vangelo odierno. Finché ci dia consolazione. Finché ci illumini prima di dormire. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù disse ai Suoi discepoli, Metteranno le mani su di voi e vi perseguiranno, consegnandovi alle sinagoche e alle prigioni, trascinandovi davanti al re e governatore, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò la parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbatteri. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un cappello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore, loda a Teo Cristo. Cari simbieri, come vivere questo brano prima di dormire? Ovviamente la continuazione del brano di ieri. Nel capitolo 20-21 abbiamo iniziato l'episodio della vedova che gettò due monetine nella sinagoga, nel tempio. E dopo San Luca ci presentava la sventura che colpisce o colpiva tutti, gli uomini e le donne, la terra e il cielo. E dopo, ora stiamo leggendo i versetti 12-19, dove ancora sulla bocca di Gesù ciò che ci presenta San Luca. Gesù si presenta, nei versetti 12-19, due onde di afflizione oppure di persecuzione. Questa volta non è un'afflizione o persecuzione che colpirà tutti, tutti, ma è un'afflizione o persecuzione che colpiranno i suoi followers, i suoi seguaci, coloro che seguono Gesù. Le due onde di afflizione, due onde di persecuzione. Intanto, innanzitutto, riprendiamo la prima onda di afflizione contro quelli che seguono Gesù, i suoi discepoli, i suoi seguaci. Sentiamo, metteranno le mani su di voi, vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, frascinandovi davanti ai re e ai governatori. Come Gesù, per tre volte, preannunciava la sua morte. Così, ora, preannunciava anche le persecuzioni dei suoi followers, dei suoi seguaci, dei suoi discepoli. Per tre volte, nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Marco, nel Vangelo di Luca, Gesù preannunciava la sua morte. E oggi, nel brano, Gesù preannunciava anche le persecuzioni contro i suoi discepoli. La prima onda di persecuzione, la prima onda di afflezione. Carissimi miei, vi presento ora, nell'Atti degli Apostoli, l'afflezione e le persecuzioni contro i discepoli di Gesù. tutto ciò che preannunciava Gesù è accaduto nell'Atti degli Apostoli, successo nell'Atti degli Apostoli. Sentiamo questi esempi, riprendiamo questi esempi. Infatti, prima lui diceva, metteranno le mani su di voi. Leggiamo nell'Atti degli Apostoli, capitolo 5, versetti 18. Venivano arrestati i discepoli. Ricordiamo, riprendiamo la scrittura. Atti 5, 18. Gesù, oggi, stava preannunciando le persecuzioni dei discepoli. E dopo la sua morte, tutto ciò che diceva lui è avvenuto. La prima. Metteranno le mani su di voi. Atti 5, 18. Sentiamo. Si levò allora il sommo sacerdo con tutti quelli della sua parte, cioè la sette dei saducei, pieni di gelosia, presi gli Apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Metteranno le mani su di voi. Gesù appreannunciava già. Prima che questo è successo. Poi aggiungeva vi perseguiteranno. Nei atti dell'Apostoli i discepoli di Gesù venivano perseguitati. Atti 5. Infatti, atti 12, 1, 2, Giacomo è stato decapitato da Erode. Riprendiamo atti 12. Gesù diceva vi perseguiteranno. E questo è accaduto negli atti dell'Apostoli, capitolo 12. Sentiamo. In quel tempo, il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della chiesa. La chiesa nascente, carissimi miei, fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Giacomo, fratello di Giovanni, Giacomo, uno dei discepoli, è stato ucciso da Erode. Fu decapitato lui. Già, Gesù aveva preannunciato questa. Consegnandovi alle sinagoge, vi consegneranno nelle prigioni. atti dell'Apostoli, capitolo 12, i versetti 3 fino a 18. Pietro è stato messo in prigione, è stato gettato in prigione. Gesù aveva preannunciato questo. Aggiungeva Gesù, trascinandovi davanti al re e al governatore a causa del mio nome. Atti dell'Apostoli, capitolo 24, San Paolo è stato trascinato lui davanti al governatore. Tutto ciò che diceva Gesù, tutto ciò che aveva preannunciato lui, sono accadute. La prima onda di persecuzione contro i discepoli. Ieri parlava generalmente la sventura che colpirà il mondo intero, la terra, il cosmo, il cielo, la sventura che colpirà tutti gli uomini, donne e uomini. Oggi Gesù sta parlando, sta preannunciando la sventura, le afflezioni contro i suoi seguaci, i suoi discepoli. Vi perseguiteranno. Questa è la prima onda di persecuzione contro la Chiesa nascente, contro i discepoli di Gesù. Carissimi miei, poi c'è la seconda onda di persecuzione o di afflizione, ciò che Gesù preannunciava, sentiamo. sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. E qui, lui stesso è stato tradito, lui, da uno dei suoi, Giura e Scarlato. San Paolo è stato perseguitato dai suoi co-nazioni, di San Paolo. Tutto ciò che aveva preannunciato Gesù si sono accadute, carissimi miei. Nel contesto nostro, come applicare questo brano alla nostra vita? Carissimi miei, voi siete beati. Voi siete veramente fortunati perché tutti siete nati italiani. oltre i primi anni del cristianesimo, quando alcuni cristiani venivano uccisi, perseguitati, qui a Roma, più di mille anni nessun cristiano è stato perseguitato o perseguitata qui in Italia. Ma ci sono persone come noi, io e voi, che sono nati in alcuni luoghi, che anche andare alla Messa una volta l'anno è un rischio. Carissimi miei, fino a oggi solo la perseveranza ci salverà. Essere cristiano, sentitemi bene, è un rischio ancora oggi. Non deludiamoci. Essere un cristiano, carissimi miei, è un rischio. un rischio. Fino a oggi ci sono problemi in comprensione che sorgono sempre tra i coniugi. Perché c'è un uomo, un marito che sempre si presenta in chiesa e la moglie lamenta sempre. Ma perché sempre ti trovi in chiesa? Che cosa fai? Sei il papa, sei il vescovo, anche il cadenale non presenta in chiesa così. Oppure una moglie che si trova sempre in chiesa facendo i volontari, il centro di ascolto, aiutando il sacerdone, il marito, si lamenta, si brontola sempre. Ma perché sempre ti trovi in chiesa? Sei Maria Magdalena? Sei la Vergine Maria? Così anche i coniugi dei nostri tempi devono affrontare questo nel loro caso. Carissimi miei, I won't risk you anche difendere la verità nei nostri tempi. Stasera vogliamo pregare per noi stessi, per i cristiani che sono perseguitati, per i giovani coppie, per i nostri ragazzi e per la Santa Chiesa, nostra madre. La nostra perseveranza ci salverà. Dobbiamo chiedere il Signore la perseveranza perché nessuno di noi perda questo grande dono. Carissimi miei, innanzitutto rendiamo grazie a Dio per il dono di questo oggi che sta per finire. Rendiamoli grazie per il dono della fede. La fede cristiana è bella, è bella, bellissima addirittura, ma è dura. anche per tutti i beni abbiamo ricevuto durante questo giorno. Rendiamoli grazie. Signore, ti vogliamo ringraziare per la nostra vita, per la vita di questi i tuoi figli che mi ascoltano ogni sera. Per i beni ricevuti durante questo giorno oggi, 29 di novembre. In modo particolare il dono della sua parola. Ti preghiamo, ascoltaci, oh Signore. Carissimi miei, preghiamo chiedendo il Signore perché ci dia la passione dei matiri. Il Signore ci dia la forza, l'energia e la passione dei primi matiri. Per questo preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo, carissimi miei, perché il Signore accende nel nostro cuore un fuoco. Perché da quando abbiamo iniziato questo cammino ogni sera, io credo veramente che è accesa già nei nostri cuori un fuoco. Perché rimanga accesa questo fuoco quando ci mettiamo in ascolto questa sua parola. E questo fuoco non venga mai spenta perché è un fuoco che ci dà calore, che ci consola, che ci illumina ogni notte prima di dormire. Per questo preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Fratelli e sorelle miei, preghiamo per gli sposi giovani perché si aprono alla fede affidando solamente in Dio che può illuminare il loro cammino di amore e di sacrificio. è un amore ma è un sacrificio perché si aprano unicamente a Dio finché possano illuminati. Per gli sposi giovani preghiamo ascoltaci, oh Signore. Preghiamo, carissimi miei, per i coniugi perché possano essere fonte di sostegno e di incoraggiamento per i loro partner, i mariti, non pronto là. Anche le moglie non si lamentano contro i loro mariti, i coniugi cristiani, perché possono essere fonti di sostegno e di incoraggiamento per i loro partner. per questo preghiamo ascoltaci, oh Signore. Preghiamo perché il Signore ci dà tutti noi la perseveranza finché non gettiamo mai, via mai, questo dono che abbiamo ereditato. Per questo preghiamo, ascoltaci, oh Signore. infine chiediamo il suo bacio santo in mezzo alla persecuzione sia dello stato dei nostri parenti o amici. Non restiamo mai delussi, non perdiamo mai la fede, ma rimaniamo sempre saldi. Per questo preghiamo, ascoltaci, oh Signore. Signore, dacci tutti noi il tuo bacio santo. Tu che vivi e rueni nei secoli dei secoli. Amen. Buona Santa nota a tutti carissimi miei.